Turismo da record di Liguria. Tra gennaio e settembre le presenze hanno sfiorato quota 14 milioni, con un incremento del 5,21% rispetto allo stesso periodo del 2015, già molto positivo, mentre i visitatori sono stati circa 4 milioni, 142 milioni in più rispetto ai primi nove mesi del 2015, con un incremento percentuale del 3,75%, esponenziale nel mese di settembre, più 10,66% di arrivi, più 6% di presenze. Per il Presidente Liguria e Giovanni Totti, questi dati segnano un record storico per la Liguria, merito non solo della situazione internazionale, ma anche e soprattutto di coloro che si stanno impegnando al massimo per fare del turismo un volano per il rilancio dell'economia della Regione. Risultati positivi nei primi nove mesi dell'anno per quanto riguarda le presenze nelle tre province e nella città metropolitana di Genova, prima in classifica la Spezia, più 9,6%, seguita da Genova, più 5,49%, Savona, più 4,71%, Imperio, più 2,7%. Per quanto riguarda i paesi di origine, al primo posto si confermano i tedeschi in termini di presenze con soggiorni più lunghi, più 8,47%, e i francesi in termini di arrivi, più 9,3% rispetto ai primi nove mesi del 2015. Per l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino i dati dell'estate confermano il trend decisamente in crescita, intrapreso dal turismo in Liguria, Regione, che secondo Berrino è diventata concorrenziale rispetto alle mete più rinomate del resto d'Italia.